Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo come avrete letto dal titolo sarà il video della mia gara che ho fatto domenica. È stata una fantastica esperienza. Ho fatto la LB40 con un cavallo che voi non avete mai visto, che si chiama Attila, che poi vedrete dopo. È un grigio con dei nei marroncini sul collo bellissimo. E lo sto montando da due settimane e mi piace tantissimo. E niente, il video è un po' corto, non c'è il video della gara. È tipo un piccolo vlog, però non ho registrato quel giorno lì. E niente, spero che vi piaccia lo stesso. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi un commento qui sotto, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sottotitura Sottotitura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.